Per me è stato un momento molto importante per me e come ho bisogno di sentire molta fiducia. Per me è stato un momento molto importante perché voleva dire che davvero mi volevano, mi desideravano e la fiducia per me è essenziale ed è così che ho deciso di venire a Milan. Si possa fare molto bene.